Soffia! Signori, e magicamente il topolino... Ho sbagliato io, scusate, devo mettere un po' di polvere... Sono allertico un po', quindi... Giro la testa, alza la mano, coprirò il città, mamma mia... Coprirò il capolino! Ora, tutto il pubblico deve mettere le mani sulla testa... Tutte e due le mani... Io metto le mani a tutti, cioè... Mettete le mani... Fate tutti lo sguardo concentrato... Mettete anche la lingua credente... Di più, di più... E senza sputare, rimanete così... Dovete dire, sparisci, sparisci, sparisci... Vai! Senza sputare... Vabbè... A questo punto... Maga... Rimanete con le mani sulla testa... Maga... Fai lo sguardo concentrato... Metti la lingua tra i denti... Di più... E senza sputare, soffia... Ma non si può, signori... Grazie al soffio della nostra madre... Il dopolino non c'è più! Fate un applauso! Un attimo, scusate... Quando dico che devi sparire... Sicuramente... Shhh... Le magie non avvengono perché tra il pubblico... C'è un altro mago... Chi sarà il mago? Lo deciderà la nostra Sofia... Sofia... Alza... Alza la mano in alto... Destra... Sringi il pugno... Alza l'indice... E con questo indice... Dimmi chi è il tuo papà! Il 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 papà! Giacomo Pino... Siccome... Lui ci sta facendo gli scherzi... Per vedere se c'è lui... C'è lui che ha i poteri magici... Ditemi un po'... Che cosa c'è dentro? E cosa c'è dentro? Che c'è dentro? Può controllare dentro il sacchietto se è sano? Ci sono buchi? È sano? Ci sono buchi? C'è? Oh! Vabbè, non esagerare! Sonia, metti il topolino Sofì, è che ho detto? Sonia metti il topolino all'interno del sacchetto esclusivamente quando lo dico io vai ah, l'hai messo dentro, prendilo no, quando lo dico io, dai quando lo dico io per vedere realmente i poteri magici del papà devi dire, Sonia, all'interno trasformati, trasformati, trasformati vai trasformati, trasformati, trasformati soffia soffia signori, esce il primo accello un topolino grigio fate tutti così eh, vai più forte più forte scusi, eh, mi scusi però mangi, però mangi prima che arrivano e ieri, signora prima vai via vai via avete ben capito? siete, conciolo avete ben capito? in poteri magici ce l'ha anche il papà la prova è la seguente pensi a un colore rosso pensi a un colore rosso pensi a un colore rosso pensi, una 40 minuti pensi con unrinteri deve dire all'interno trasformati in un fulano rossi trasformati in un fulano rossi soffi mamma mia e se prima c'era un topo lì rito signori il fulano rossi è venuta a dire rossi vada al posto fate un applauso a papà e attenzione a chiudere il lume la nostra sogna sogna di all'interno sparire tutti soffia soffia gentilmente signori fate un applauso a Sonia sofia sofia io che ho detto ho detto sofia c'ho la f mossa che mi ha sessore sofia signori applauso a questo punto io devo interrompere qui lo spettacolo